signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospio di questo canale continuiamo a parlare del sistema magico all'interno del war building questa settimana passiamo dalla teoria alla pratica capita molto spesso che il master voglia inserire degli elementi fantastici all'interno della sua ambientazione che sia un fantasy che sia non lo sia diciamo un sistema magico fatto di elementi irrazionali il fatto però è che se non vengono introdotti con un necessario ragionamento dietro può capitare che diventino o semplicemente degli elementi incoerenti che rendono confusa l'ambientazione o al meglio degli elementi che rimangono meramente sullo sfondo senza avere mai nessun impatto vero e proprio sulla storia in questo video quindi andiamo a vedere come fare un ragionamento dietro il sistema magico prima di introdurlo per fare in modo di aggiungere alla narrazione qualcosa che non sia semplicemente un elemento di confusione ma che diventi uno strumento vero e proprio nelle mani dei vostri giocatori cosa intendiamo quando parliamo di sistema magico l'ho spiegato nel video della settimana scorsa non starò a ripetermi per non perdere tempo ma se non l'avete visto ve lo lascio qua su andatelo a recuperare perché il discorso di questa settimana segue direttamente quello della settimana scorsa se non avete visto il video potreste non capire di che cosa si parla chiarito questo cominciamo subito con la cosa più importante prima di inserire un sistema magico riflettete sul fatto che il sistema magico deve avere uno scopo praticamente ogni mondo fantastico ogni ambientazione ha al suo interno degli elementi che lo caratterizzano ma che se si andasse ad analizzare nel dettaglio la questione si vedrebbe quasi immediatamente che hanno pochissimo senso non può esistere una società segreta di vampiri con elementi in ogni città non esistono persone con i superpoteri anche se esistessero il vigilantismo sarebbe comunque un reato peggiore di quelli che vanno a sventare non esistono i draghi anche se esistessero combatterli utilizzando bande di tombaroli mercenari itineranti non sarebbe la scelta più logica questo genere di elementi fantastici però viene inserito proprio perché migliora la storia e rende più facile portarla là dove deve andare a parare quale sia il motivo per cui voi vogliate inserire il vostro sistema magico in questo caso non è importante magari volete semplicemente dare una scusa ai giocatori per far agire i loro personaggi nel mondo di gioco se gli alieni non attaccassero la terra gli eroi non dovrebbero andare a fermarli oppure potrebbe essere un elemento simbolico che serve per stabilire qualche tema importante nella campagna il fatto che i supereroi abbiano i superpoteri ma vengano discriminati perché diversi dalla gente normale che non li ha potrebbe essere simbolico di qualsiasi altro tipo di discriminazione di cui la vostra campagna parla indipendentemente da quale sia il sistema magico che volete inserire riflettete bene su come è il caso di inserirlo questo non vuol dire che dovete cercare di non inserirlo anzi un sistema magico ben fatto migliora decisamente un'ambientazione abbiamo detto semplicemente riflettete su cosa state facendo il fatto che voi vogliate inserire i draghi nella vostra quest fantasy non vuole necessariamente dire migliorarla il fatto che nel fantasy spesso ci sono i draghi non vuol dire che all'interno della vostra ambientazione quei draghi servano a qualcosa e anzi la loro presenza potrebbe peggiorare il tutto invece che migliorarlo indipendentemente da quale avrete scelto sarà il sistema magico all'interno della vostra ambientazione o se ce ne sarà più di uno questo deve funzionare tramite una sua logica che deve essere facilmente comprensibile per i giocatori non possono semplicemente succedere cose a caso perché magia o alieni ovviamente all'interno dell'ambientazione di gioco il sistema potrebbe essere incredibilmente complesso all'interno della fiction del gioco però un mago di dungeon and dragon anche solo per lanciare gli incantesimi più semplici deve studiare per anni per riuscire a padroneggiare il sistema di trascrizione della magia che è su una base numerica filosofica incredibilmente ostica da concepire e in vampiri la camarilla è un'organizzazione quasi feudale formata da vari gruppi di interesse di vampiri in cui si sono sette clan ideologie politiche e partecipazioni esterne che la rendono incredibilmente complessa e molto difficile da navigare per quello che riguarda però la loro funzione per i giocatori si limitano a essere devi avere l'incantesimo trascritto è uno slot vuoto per poterlo caricare e questa è gente immanicata e pericolosa cercata di non farla incazzare per quanto magari nel corso della campagna i dettagli del funzionamento in fiction del sistema magico possano anche venire approfonditi e portare una comprensione migliore sia per i personaggi che per i giocatori fin dall'inizio per i giocatori deve essere importante sapere a che cosa serve quel sistema e cosa devono fare per poterlo utilizzare per fare quello che a loro interessa fare non necessariamente questo vuol dire che deve essere facile per loro farlo manipolare il sistema magico per ottenere dei risultati potrebbe richiedere incredibile dispendio di risorse magari dovranno fare una questa apposta potrebbe essere anche lo scopo dell'intera campagna riuscire a portare un mutamento nel mondo ma i giocatori dovranno avere sempre presente perché stanno facendo quello che stanno facendo e qual è lo scopo che alla fine otterranno per lo stesso motivo il sistema magico deve essere consistente questo vuol dire che una volta che è stato stabilito che all'interno dell'ambientazione facendo l'azione a si ottiene x e facendo l'azione b si ottiene y ogni volta che capiterà di compiere l'azione a dovrà verificarsi x o facendo b dovrà verificarsi y perché questo è quello che già è stato stabilito se per far viaggiare l'astronave più veloce della luce serve eseguire complessi calcoli sul computer di bordo e utilizzare un carburante particolare allora ogni volta che bisognerà viaggiare più veloce della luce servirà quel carburante coi calcoli e se i giocatori riusciranno a e far entrare in gioco procurarsi all'interno del gioco il carburante e i calcoli avranno il diritto di far viaggiare l'astronave più veloce della luce come meglio credono fate bene attenzione che questo deve valere anche e soprattutto per i png mi è capitato molto spesso di vedere master che sono strettissimi per quanto riguarda la coerenza del loro sistema magico con i giocatori ma che poi abbiano introdotto dei png che fondamentalmente ignoravano ogni logica dell'ambientazione e facevano totalmente quello che volevano se il boss del dungeon ha reso impossibile teletrasportarsi da dentro a fuori dal dungeon e da fuori al dentro per sicurezza quando gli avventurieri andavano a sconfiggerlo loro non potranno teletrasportarsi dentro ma neanche lui potrà teletrasportarsi fuori questa è la coerenza di un sistema magico a questo punto dovrebbe essere già chiaro da quello che ho detto prima ma per rendere le cose più palesi possibili il sistema magico deve anche essere manipolabile da parte dei giocatori questo non vuol dire che possano cambiarlo a loro volontà vuol dire che possano prenderlo in considerazioni e utilizzarlo per prendere decisioni ragionate per quanto riguarda i loro personaggi non state scrivendo un romanzo in cui i personaggi faranno solo quello che è più conveniente per voi che facciano state gestendo un gioco di ruolo quindi tutte le regole del sistema tutta la logica del sistema deve servire per fare in modo che i giocatori possano manipolare direttamente la storia e utilizzare gli elementi che hanno per portare dei cambiamenti effettivi indipendentemente da quello che era stato previsto inizialmente se nel mondo cyberpunk in cui state giocando esiste la megacorporazione che ha già più volte mandato i suoi sicari contro i giocatori perché cerca di uccidere chiunque lavori nel campo delle biotecnologie a questo punto però quando i giocatori diffonderanno prove false sul fatto che il loro nemico sta lavorando sul campo e le biotecnologie la megacorporazione malvagia dovrà mandare i suoi sicari anche contro il loro nemico questo ovviamente potrebbe portare a voi come master dei problemi di gestione potreste dover riscrivere delle parti di campagna soprattutto se i giocatori prendono il vostro sistema magico e utilizzando il pensiero laterale lo sfruttano per fare qualcosa a cui neanche voi avevate inizialmente pensato però ehi questo è il bello di essere il master diciamo che per questo video è tutto spero si sia capita l'importanza di uno studio nel dettaglio di un sistema magico prima di inserirlo adesso la parola passa a voi ditemi quali ragionamenti avete fatto voi prima di inserire il sistema magico della vostra ambientazione o quali ragionamenti state facendo o che cosa avete deciso di cambiare dopo aver visto il video come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella per ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo al prossimo video ciao